Più emozioni sulle tribune che in campo, finisce in parità 0-0 la stracittadina messinese, una partita comunque particolare dal sapore antico. Atmosfera nostalgica all'interno del Betusso Stadio Giovanni Celeste gremito oltre la capienza prevista, come i tempi della Serie B. Un derby è sempre un derby anche in Serie D, soprattutto se si incontrano la capolista CR e una delle rivelazioni del campionato il città di Messina. Prima occasione per la CR, colpo di testa di Gnoffo alto sopra la traversa e la squadra di Catalano a fare la partita almeno nel primo tempo. Il città invece attende per colpire in contropiede. Il match però è nervoso, almeno per il primo quarto d'ora al Celeste si vedono solo falli. Ci prova il città, il calcio di punizione di Avola però è respinto da Lago Marsini. Accade davvero poco, alla mezz'ora una pregevole azione di Citro porta alla conclusione Ticione, che però non impensierisce Lago Marsini. Il Messina reclama per un rigore non assegnato per un fallo su Savanarola, ammonito per simulazione. Addirittura incredibile, a 10 dall'intervallo, l'occasione sprecata dal città di Messina. Saraniti si invola verso la porta della CR, serve Citro che supera Lago Marsini, ma spedisce il pallone sopra la traversa. La partita si accende, la CR risponde con un colpo di testa di Chiaria che finisce a lato. In avvio di ripresa Citro ha tre piedi il pallone dell'1-0, l'attaccante del città però viene fermato da Lago Marsini. Padrone di casa intraprendenti nel secondo tempo, Ticione crea scompiglio nell'area della CR, ma conclude a lato. Episodio da rivedere al minuto numero 17. Cross di Ticione, colpo di testa, botta sicura di Saraniti. Lago Marsini respinge ma non controlla. Il città di Messina esulta ma l'arbitro Giua non convalida la rete perché il pallone non avrebbe superato la linea bianca. Azione dubbia, episodio che aggiunge un pizzico di nervosismo in più a un match già di per sé decisamente teso. Il città ci prova fino alla fine ed è anche sfortunato quando un tiro cross di Viscuso finisce sul palo con Lago Marsini battuto. Catalano tenta la carta Quintoni per dare un po' di brio a un reparto offensivo in giornata no, ma è ancora il città ad andare vicino al vantaggio con una punizione di Ticione. Finisce 0-0 nonostante i 4 minuti di recupero. La corsa del Messina verso la seconda divisione continua e il città invece si conferma tra le squadre più interessanti del gironei di Serie D. Grazie. Grazie Grazie Grazie